Alberto Ceruti invece, a proposito proprio del meglio di quello che ha visto dal vivo, dal campo, la sua formazione ideale fra i calciatori della sua vita, possiamo includere quelli che ha visto quando non ancora lavoravano, insomma, possiamo, dallo stadio da bambino, la prima che ha visto dalla tv magari, è la prima scritta da giornalista, se ricorda quel che ricordo. La prima, ho sentito male, la prima partita vista in televisione? Sì, la prima vista da bambino in tv, la prima vista dallo stadio da bambino e la prima invece scritta da giornalista o seguita da giornalista, insomma, magari in altri tempi si andava in due, in tre, poteva capitare di non scrivere, tutti magari, le sue prime. Le prime partite che ho visto da bambino, da ragazzo, sono state quelle in bianco e nero dei mondiali del 1966, quindi con la disgraziata eliminazione dell'Italia che perse con la Corea del Nord ai mondiali del 1966. Allo stadio sono andato per la prima volta, accompagnato da uno zio, era il marzo 1962, a vedere Milan-Padova 4-0. Era il Milan che vinse lo Scudetto con il grande Nereo Rocco in panchina. Poi, da giornalista, ho cominciato a seguire le partite di Serie C, poi di Serie B, la cosiddetta gavetta. Ricordo in particolare la prima partita di Serie A che ho commentato è stata una partita di fine campionato, Napoli-Milan, ormai una partita senza alcun interesse, però il fatto di poter andare a commentare una partita del Milan in trasferta a Napoli fu una grande soddisfazione. Invece il top 11 della sua vita fra i calciatori? Parlando dei giocatori che ho visto io, il mio top 11 è composto quasi esclusivamente da campioni del mondo. Se oggi vogliamo tradurlo con un modulo può essere il 4-3-1-2 e Zoffa in porta, una linea difensiva formata da Gentili a destra, Cannavaro e Scirea centrali, Maldini a sinistra, un centrocampo con Causio, Oriali e Tardelli, Rivera trequartista, alle spalle di Baggio e Rossi. Ma non mettiamo, non mette nessuno straniero? No, ho fatto una formazione di italiani, volutamente ho scelto tutti italiani. Tra i campioni li ha visti tutti? A parte che tanti li ricordo intervistati, Graif, ma direi anche Pelé, ma direi Di Stefano pure? No, Di Stefano non l'ho mai visto giocare. L'ho visto giocare Pelé, ma era un ragazzino, l'ho visto in una partita a San Siro, quando c'era a fine stagione il torneo Città di Milano e lui giocò con il Santos. Devo dire, dal vivo ho un ricordo molto sbiadito, poi l'ho visto ovviamente in televisione ai mondiali del 70. Ma hai intervistato mai Alberto? Io ricordo un Graif. Graif l'ho conosciuto. 10 anni fa, ovviamente un'apertura, i più grandi l'hai intervistato, magari tra i più grandi l'hai intervistato. Io ho intervistato Graif a casa sua a Barcellona nel 2006, prima della finale di Champions tra il Barcellona e l'Arsenal, quando il Barcellona di Rijkaard vinse la prima Coppa dei campioni per il Barcellona. Si giocava al Saint-Denis, a Parigi. E' un coi fede.